Buongiorno a tutti da Appiano Gentile, giornata molto importante, non solo perché oggi l'Inter tra poco nel pomeriggio partirà per Singapore ed era così l'inizio della sua tournée asiatica, ma perché questa mattina alle 9.25 Mauro Riccardi è sfrecciato qui sul viale di Appiano per iniziare a lavorare da solo, questo lavoro che ha spiegato l'Inter di ricondizionamento per cercare di fargli trovare una condizione fisica ottimale, motivo per cui non partirà insieme alla squadra per la tournée, questo è l'esito della rottura che si è consumata sabato in quel di Lugano con Icardi e la società che hanno poi deciso di prendere due strade diverse, con Icardi che rimarrà a lavorare da Appiano Gentile con uno staff completo messo a sua completa disposizione da parte dell'Inter, quindi avrà un allenatore con patentino, un preparatore atletico, un fisioterapista e un medico per lavorare ogni giorno e cercare quindi questa condizione fisica ottimale, mentre i compagni giocheranno e si alleneranno dall'altra parte del mondo, una situazione paradossale con l'Inter che aspetta novità del mercato, così come Icardi, bisogna capire se adesso riconsidererà dopo questa rottura totale le offerte che prima aveva bocciato come quella del Napoli o se invece proseguirà aspettando l'offensiva della Juve o ancora non è da escludere che punti i piedi proprio per vendicarsi e per motivi d'orgoglio rimanga ancora all'Inter anche dopo la scadenza del 2 settembre della fine del mercato, una situazione da seguire in completa evoluzione, intanto la squadra invece partirà per Singapore con Conte e i compagni, ci sarà anche il nuovo acquisto Barella, quindi parziale soddisfazione per l'allenatore che continua a chiedere rinforzi di un certo peso da parte del mercato, aspettando che si sblocchi qualcosa sul fronte Lukaku in Inghilterra, dicono che sia pronta l'Inter a una nuova offerta molto più cospicua della prima che non aveva scaldato più di tanto gli animi da parte degli inglesi e che potrebbero quindi esserci delle novità prima della sfida contro il Manchester che ci sarà proprio sabato prossimo in quel di Singapore, vedremo se ci saranno novità da quel punto di vista, è importante, addirittura si è dovuti riconvocare Puskas, farlo tornare dalle vacanze per avere un attaccante almeno di un certo livello insieme ai giovani, Colidio è disposito per affrontare partite contro Paris Saint Germain, contro Manchester United e Juventus il 24 a Nanchino, sede del quartier generale di Suning. Per cercare di sbloccare il mercato rimarranno inizialmente a Milano sia a Marotta che a Ausilio, che poi raggiungeranno il resto della comitiva per la sfida contro la Juventus e per il periodo in cui l'Inter rimarrà a Nanchino per incontrare anche il chairman Jin Dong Zhang e fare un punto globale su tutta la situazione, vedremo anche se ci saranno novità sul frontegeco, anche qui trattativa complicata, Inter e Roma rimangono sulle loro posizioni, bisogna capire chi farà il primo passo per cercare un accordo che comunque non sembra in discussione, anche perché la Roma rischerebbe veramente tanto a tenersi un giocatore di 33 anni che andrà a scadenza, come abbiamo più volte sottolineato. Per il resto aspettiamo quindi di vedere la partenza per Singapore e soprattutto se nelle prossime ore l'Inter riuscirà ad accontentare con un altro, almeno un altro regalo, Antonio Conte, che ne ha assolutamente bisogno. Voi mi raccomando, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare almeno a 10.000 entro fine settimana e poi naturalmente sempre sintonizzati.